Grandissima soddisfazione per questo titolo tricolore vinto dall'Inter, 17esimo della sua storia, il primo titolo come hanno scritto alcuni tifosi dell'Inter vinto da Giuseppe Mourinho in Italia al primo anno. Lei è abituato a fare tra l'altro queste grandi cose, cioè arrivare in un paese e vincere il titolo al primo anno? No, è sempre una grande soddisfazione, io sono uno che nel momento delle grandi vittorie sono molto equilibrato, mi piace più guardare, mi piace più ricordare più tardi, mi piace più essere felice con la felicità degli altri. Sì, però ovviamente sono molto orgoglioso, ringrazio tutti, tutti i giocatori, tutti che hanno lavorato vicino a me, staff tecnico, medico, magazzineri, tutti che dal primo giorno abbiamo lavorato insieme. Ricordo anche i giocatori che non sono qua adesso, tipo Olivier, Adriano che non sono qua però hanno iniziato il primo giorno con noi, una famiglia importante che è arrivata a questo scudetto esattamente per questo concetto di famiglia, siamo un gruppo molto molto forte, mi sono ovviamente molto soddisfatto. Adesso un pochino arrabbiato perché loro vogliono andare al Duomo, che veramente non mi piace perché domani c'è una partita, però devo capire che per loro e per i tifosi è bello, che l'emozione subito dopo la vittoria ha un significato ancora più bello. Io ho fiducia che anche con festa e anche dormendo poco che domani la gioia, il stato psicologico positivo, il caldo dei tifosi deve essere sufficiente per dimenticare questo momento e essere sufficiente per fare una buona partita. Lei è arrivato in Italia, ha vinto il titolo tricolore subito, soprattutto è diventato un'icona dei tifosi dell'Inter, è diventato proprio un simbolo di interismo. Questo viene dimostrato dal fatto che in questi giorni tutti i tifosi dell'Inter che aspettavano il titolo tricolore lo facevano attraverso le sue parole, titoli, usavano questa forma gergale che tra l'altro in Italia viene utilizzata anche in altri ambiti che non sono solo calcistici, zero titoli. Io simbolo dell'Inter no, in assoluto no, non ho fatto sufficiente per questo, ci sono tante persone nell'istoria dell'Inter molto più importanti di me. Io sono solo un allenatore che ha fatto il suo lavoro bene e che ha vinto un scudetto. Mi piace essere nel cuore dell'interista, mi piace ovviamente, io sono così, sono una persona che arriva a un club che subito si identifica, che subito capisce la cultura, che subito veste la maglia, che la sente e per questo mi piace veramente. però sono anche un po' pragmatico in questo e capisco calcio e senza risultato non c'è questa passione e quello che devo fare è continuare a fare tutto il possibile per continuare nel cuore dell'interista. C'è una dedica particolare? E' nostro, il titolo è nostro, è nostro, è delle nostre famiglie, delle persone che sono vicine a tutti noi, di tutte queste persone che anche nascoste lavorano per noi, il cuoco è campione, la signora della polizia è campione, il magazziner è campione, siamo tutti campioni e questo tipo di persone che lavorano praticamente nascosto nella ora della verità mi piace ricordare e chissà per questo mi piace a me nascondermi in questo tipo di ora perché è l'ora di tutti, non è l'ora di quello più mediatico, del giocatore più importante, è di tutti veramente. Grazie mille. Grazie mister.